Siamo in piena estate, in piene vacanze, tutto si rilassa, tutto diventa più sereno in cerca di riposo. Anche Dio si rilassa, anche Dio si riposa oppure ci aspetta, oppure Dio può cogliere l'occasione di queste vacanze per potersi incontrare con noi. È il richiamo di questa domenica. Nella prima lettura ci viene presentato un incontro tipico di Dio con l'uomo, l'incontro di Dio con il suo servo, il suo amico Abramo. Dio si presenta nel Querceto di Manrè sotto l'aspetto di tre persone, non per niente diverse dagli altri, degli altri che passavano dal Querceto di Manrè. E Abramo come si comporta? Abramo si comporta in maniera eccellente, riceve questi tre ospiti che erano andati a trovarlo proprio con tutta quella dignità, la signoriliatea, la nobiltà con cui nell'Oriente si ricevono gli ospiti. Si lavano i piedi e si offre uno splendido pranzo e poi ci si mette a disposizione di questi ospiti. Perché Abramo fa questo? Abramo fa questo perché non è un disattento, ma è attento a coloro che vengono, è attento a coloro che lo incontrano. Questa attenzione è una attenzione importante per potersi disporre a ricevere Dio. E poi attenzione, durante le vacanze non abbandoniamo i nostri usi religiosi, le nostre abitudini religiose, non dico la Messa, ma anzi potremmo prendere l'occasione per poter dare occasione a Dio di incontrarci. E Abramo ci serve per manifestare l'accoglienza con tutti quei segni tipici dell'Oriente per accogliere un pellegrino, per accogliere un ospite che arriva. E le vacanze potrebbero essere anche l'occasione forse per far riviviscere tutte le nostre migliori abitudini religiose. Ricordo quando ero in Sardegna e tornavano gli emigrati dalla Sardegna, dal Belgio, dall'Olanda, dalla Germania, era l'occasione per far rinascere tutte le proprie usanze religiose, ritornare alla Messa, far celebrare le messe per i defunti, andare, partecipare alla processione della festa del Santo. Naturalmente sono le donne, perché i rapporti con Dio erano delegati alle donne in Sardegna, in particolare nell'interno. Bene, anche noi l'importante è non dimenticare questo, ma sarebbe una bellissima occasione, magari durante la Sardegna, organizzare un pellegrinaggio, organizzare la visita a un santuario, dare dello spazio a Dio perché se vuole incontrarsi sensibilmente con noi, possa farlo, lo stiamo attendendo. E' questo il richiamo di questa domenica, in maniera da poter contare alla fine dell'estate che dagli incontri più belli che abbiamo fatto durante questa estate è stato proprio l'incontro con Dio. Buona domenica e buon incontro!